ragazzi mi prendo questo minuto per dire grazie a mister Claudio Ranieri che dall'addio al calcio lascia il Cagliari lascia questo sport a 72 anni mister hai dato tutto e dobbiamo solo dirti grazie hai dato tutto umanamente sportivamente ci hai insegnato tanto grande carica in campo ai tuoi giocatori qualsiasi squadra tu abbia allenato hai rientro uno scudetto con l'exter in Premier League facendo praticamente un'impresa che in pochi nella storia del calcio ho visto fare veramente di questi uomini non so se ce ne saranno altri nel mondo del calcio ora goditi la tua famiglia mister te lo meriti veramente nulla dire dall'aziale dico che lascia veramente una grande persona questo sport solo questo un applauso veramente a mister Claudio Ranieri onora a te che hai onorato questo calcio veramente mi hai fatto rosicare quando hai detto goto come un riccio riferendoti a una vittoria che che hai fatto contro noi in un derby però questo è il calcio abbiamo perso militaramente quel derby ma a parte questo veramente fa veramente male perdere queste queste persone nel calcio e ci rimani no finisce un'epoca chissà in quale altra epoca di nuovi allenatori promettenti andremo a andremo a finire solo questo ciao mister c'è